Lorenzo Staiti al termine di Albinola FF al Pisalò 0-1, il tuo gol decisivo permette alla FF di passare il turno a una gioia immensa questa sera? Sì, sono molto contento oltre che per la gioia personale del gol, per la prestazione della squadra perché conquistare un obiettivo così importante, il passaggio del turno in questo modo contro una squadra di valore come l'Albinola FF ci deve dare tanto entusiasmo e convinzione dei nostri mezzi. C'è stato un segnale di forte crescita soprattutto nelle ultime partite che magari non era coinciso con i risultati però state arrivando molto bene in questa fase che è quella decisiva. Sì, sicuramente non dobbiamo mollare la presa perché ormai siamo entrati nella fase, sembra scontato, partite dove il minimo errore ci può costare caro quindi non dobbiamo calare di concentrazione. Se facciamo prestazioni come queste, ripeto, oltre alla mia gioia personale, sono davvero contento per quello che fanno i miei compagni, il clima che si respira, le punte si sacrificano come forse corrono anche più dei mediani, quindi nel senso dobbiamo tenere questo atteggiamento e poi le qualità le abbiamo. Grazie! 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 Grazie!